Bene, ci stiamo addentrando nel tema della spessa economy e stiamo andando nello spazio. A breve degli ospiti li presentiamo così. E abbiamo in collegamento Pierre-Philippe Mathieu dall'ESA, Pietro Milillo dal Centro Aerospaziale tedesco e Anil Dei dall'Agenzia Spaziale italiana. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Grazie per essere qui con noi. Stiamo cercando in tutti i modi di trattare il tema relativo al mondo dell'aerospace. Abbiamo avuto anche in queste tre giorni una sala formativa dedicata a questo tema. Abbiamo in questi anni sia con Chiara e con Pietro che è qui e anche con Pierre-Philippe Mathieu e con l'Agenzia Spaziale italiana. stiamo facendo questo lavoro proprio per diffondere e far conoscere sempre più tutto ciò che sta dietro e non solo al mondo legato all'aerospace. Volevo partire subito da Anil con una domanda rispetto a questa situazione pandemica e se c'è un nesso con la parte aerospaziale. È possibile che sia d'aiuto? Possiamo dare qualche informazione a chi ci segue da casa? La domanda quindi è se lo spazio può essere d'aiuto per affrontare la pandemia? Sì. Ok. No, per un attimo ho sudato, quindi ho ringraziato il fatto di non essermi tinto ai capelli, se no magari sudandomi poteva colare la tintura. Allora, intanto grazie per l'invito. Devo dire sicuramente sì, sicuramente sì perché lo spazio, come anche è stato detto prima, è molto più vicino a noi di quello che può sembrare, di quello che alla fine noi pensiamo. Moltissime delle tecnologie e delle innovazioni di derivazione spaziale hanno avuto applicazioni in ambiti non spazio. Fin dagli anni 60 addirittura ci sono state delle branche dell'economia che sono nate grazie allo spazio. Negli anni 60 si parlava di questo Apollo Effect, quindi a nuovi ambiti tecnologici come la microelettronica e così via che sono nati grazie alle missioni spaziali. Quindi le tecnologie e le innovazioni hanno ovviamente sempre avuto un impatto sull'ambito sociale, sull'ambito terrestre. Venendo al dunque, direi che forse quello che noi stiamo cercando di fare sia come agenzia nazionale che anche come agenzia europea insieme anche ad altri colleghi di altre agenzie, è un po' il motto di un filosofo americano che si chiamava Benjamin Parker, ma tutti chiamavano Zio Ben, che era da grandi poteri derivano grandi responsabilità, nel nostro caso da grandi tecnologie derivano grandi responsabilità. Ci siamo attivati da subito anche per affrontare questa grave emergenza, questa emergenza pandemica legata al Covid. Tecnologie spaziali, ad esempio abbiamo supportato molti bandi, abbiamo messo in campo moltissimi anche finanziamenti per nuove idee in maniera molto veloce e molto proattiva e questo continuerà anche poi nei prossimi mesi. Sono stati avviati molti progetti e questo per quanto riguarda l'immediato, ma nel passato ci sono già stati esempi di applicazioni tecnologiche che hanno avuto un impatto anche sull'ambito della salute. Si parlava di telemedicina prima, in verità ci sono anche ad esempio sensori applicati alle maschere per gli operatori sanitari per analizzare la quantità di ossigeno, ma anche ad esempio di nuovo altra microelettronica che è stata utilizzata per missioni come Rosetta e il concept è quello ad esempio di usarlo per delle piccole micropompe di insulina. Quindi assolutamente sì, lo spazio posso dire che è centrale per quanto riguarda tecnologie per generare innovazioni a beneficio dell'uomo. Grazie Anil. Pierre, invece volevo trattare quest'altro tema perché abbiamo visto la parte legata alla salute. C'è un tema legato all'ambiente che ha una connessione forte con la parte aerospaziale. Cosa sta facendo l'Europa da questo punto di vista? Buonasera Cosmano. Innanzitutto grazie tanto per l'invito, è sempre un piacere. Grazie a te. Mi senti? Ti sentiamo. Ok, perfetto. Dunque l'Agenzia Spaziale Europea insieme ai suoi partner come la Commissione Europea stanno costruendo un'infrastruttura nello spazio per assicurare un monitoraggio dell'ambiente ogni settimana in un modo operativo per i prossimi 10-20 anni, eccetera. Ha un'alta risoluzione. Tutti questi dati sono open e gratis. Dunque le potete usare e le potete scaricare. Questo permette all'industria, alle start-up, ai business di creare servizi di informazione di capire come il business è influenzato dall'ambiente qual è l'impatto dell'uomo sul pianeta, eccetera. Dunque c'è un valore economico a questa informazione ma bisogna trasformare i dati in informazione è lì che viene proprio la space economy da cui parlava Chiara e è talmente presente oggi che è quasi invisibile dunque non sappiamo che ci sono tutti questi satelliti in orbita che ci danno tutti questi dati un po' come il GPS nella macchina e c'è un sacco di applicazioni che esistono oggi ma anche tante da scoprire e da sviluppare. Grazie. Grazie Piero. Invece Pietro c'è anche un tema di monitoraggio rispetto alle strutture ponti piuttosto che edifici che può essere fatto intrecciando l'intelligenza artificiale di monitoraggio da satelliti ci puoi dire qualcosa in più? Sì, certo. Ciao Cosmano, grazie per l'invito. Come diceva Pierre c'è un enorme bisogno di trasformare i dati in informazioni e al giorno d'oggi quello che noi stiamo facendo come agenzie e anche come università è quello di sviluppare queste applicazioni e renderle affidabili. Quindi partiamo dallo sviluppo metodologico su determinati casi studio per poi nel momento in cui questi dati verranno distribuiti in maniera sistematica su tutto il pianeta per poi generare dei prodotti e dei servizi nel cosiddetto near real time come diceva Pierre è possibile avere dati su base settimanale. Da questo punto di vista l'Italia è come sempre all'avanguardia con il programma Mappitari del Ministero dell'Ambiente che si è posto come obiettivo quello di monitorare l'intero territorio italiano tramite una costellazione di satelliti radar chiamata Cosmos SkyMed e prima ancora di Cosmos SkyMed il satellite europeo EERS e siamo gli unici ad aver generato una mappa su tutto il territorio italiano disponibile a tutti che ci mostra come il nostro territorio si deforma e quindi partendo da questo dato che è un dato immobile nel tempo possiamo noi innanzitutto addestrare i nostri algoritmi e successivamente generare dei servizi per essere pronti nel momento in cui questi servizi diventeranno e questo flusso di dati diventerà costante anche grazie ai satelliti Sentinel dell'Unione Europea per poi cercare di aumentare la sicurezza dell'intero sistema delle infrastrutture italiano, europeo e si spera anche mondiale Grazie grazie Pietro Anil invece volevo fare un passaggio con te rispetto al tema del trasferimento tecnologico delle start-up e dell'innovazione ci sono tantissime start-up che ruotano attorno a quella che è la nostra community e questo evento giusto per darti un'idea all'interno dello start-up district c'erano 70 start-up in queste tre giorni può essere il tema del trasferimento tecnologico e il nesso tra aerospace e altre industrie in cui stanno operando molte start-up un punto anche per rilanciare l'economia Assolutamente sì diciamo che forse l'elemento chiave è che di questi tempi è una parola che non so come sostituire però l'elemento chiave è la contaminazione ora non volevo usarla proprio così diciamo in diretta diciamo la cross-fertilizzazione ecco questo è forse l'elemento chiave un sinonimo corretto noi ovviamente supportiamo molto anche la creazione di nuove start-up e quindi nuove attività commerciali o quelle che poi in futuro potrebbero diventare nuovi operatori economici però devo dire Chiara prima ha spiegato molto concretamente la differenza tra upstream e downstream forse quello che stiamo vedendo in questo momento è uno space stream mi spiego meglio vediamo sempre di più che le contaminazioni nascono da settori non spazio che in qualche modo utilizzano dati o tecnologie di derivazione spaziale quindi vediamo start-up che lavorano in campo ad esempio dell'agricoltura la precision farming vediamo start-up che lavorano nel campo medico biomedicale che utilizzano magari brevetti NASA o ESA per sviluppare nuovi medical device o nuovi sistemi per elaborare le immagini piuttosto che start-up in ambito finanziario ad esempio o start-up che si approcciano a quelle nuove branche dell'economia che dicevo prima della new space economy ad esempio l'economia delle ombre e quindi l'utilizzo delle immagini satellitari delle ombre che vengono generate per ad esempio generare servizi per il mercato finanziario piuttosto che per consulenza per biomassa eccetera eccetera biomassa di alberi e così via o l'economia della posizione quindi il posizionamento satellitare tutto quello che riguarda la guida autonoma piuttosto che le prospettive IoT quindi direi assolutamente sì però tenendo un occhio molto diciamo focalizzato sul fatto che non bisogna tenere distinte le due cose ma la cross fertilizzazione tra spazio e non spazio può dare vita sicuramente a nuove avventure a nuove start-up quindi nuove avventure imprenditoriali noi ne vediamo ogni anno sia attraverso la rete degli incubatori ufficiali di start-up spazio che abbiamo in collaborazione con ESA quindi gli ESA BIC piuttosto che anche start-up che nascono da incubatori non spazio che hanno però questo discorso appunto di interagire con i dati o le tecnologie derivanti dello spazio quindi assolutamente sì è un volano formidabile tra l'altro grazie mille Anil invece Pier volevo chiederti come sta andando l'osservazione della terra e come l'intelligenza artificiale impatta su questo tema sì dunque quello che vediamo oggi sono due rivoluzioni una convergenza di queste rivoluzioni da un lato abbiamo sempre più dati perché abbiamo sempre più sensori che sia Internet of Things i dati open su internet ma anche questi satelliti da qui abbiamo parlato e ne lanciamo uno oggi dunque in bocca al lupo e dall'altro lato abbiamo delle nuove tecniche perché il volume e la varietà di questi dati aumenta sempre dunque dobbiamo avere dei tool molto potenti e l'intelligenza artificiale è un nuovo tool un nuovo paradigma di usare i dati creando degli algoritmi in un modo automatico che imparano dai dati stessi dunque noi a LESA proviamo a mettere questi due mondi insieme un po' la cross fertilization da cui parlava Anil e dunque se sono qui è anche per dire alle start-up che ci guardano e che fanno AI o digital tool guardate un po' i nostri dati perché c'è tante ci sono tante opportunità di sviluppare nuovi business con questi tool la maggioranza di questi tool è open source noi proviamo a farli ottimizzare per i nostri dati e questo può dare un nuovo modo di estrarre proprio l'informazione da questi petabyte di dati grazie Pier Pietro un'ultima domanda a te possiamo considerare la rivoluzione spaziale impattante sulla vita dell'uomo di ogni persona così come lo è stato la rivoluzione di internet e se ciò non è accaduto quando accadrà secondo te io credo che questo l'analogia c'è ma dovremmo aspettare i prossimi 5-10 anni perché stiamo ancora ponendo le basi per generare un sistema completamente automatizzato e in maniera continuativa come dicevano Pier e Anil dal mio punto di vista quello che stiamo iniziando a fare oggi è passare da una visione statica del nostro pianeta per esempio l'agenzia spaziale tedesca ha generato un DEM ad altissima precisione con la costellazione Tandemix e quindi un DEM fisso nel tempo ha serie temporali che mostrano cambiamenti come questa elevazione modello di elevazione digitale del terreno varia nel tempo ad epoche successive quindi adesso noi stiamo transizionando da una visione statica del mondo mappe di velocità sull'intero continente antartico modelli di elevazione digitale precisissimi quindi una visione statica ad una visione dinamica che ci permette anche di capire di scoprire una nuova fisica del clima quindi nuovi fenomeni che caratterizzano la fisica del clima quindi lo scioglimento degli acciai come ho parlato l'anno scorso sempre sul stage del Web Marketing Festival quindi sì questa rivoluzione sta avvenendo ma siamo lì in 5-10 anni dovremo saremo nel pieno di questa rivoluzione adesso siamo solo all'inizio quindi questo è il momento giusto per entrare e per intervenire in questa rivoluzione ed essere parte attiva grazie mille grazie Pietro grazie a Pier grazie a Nil speriamo di aver aiutato un po' a chiarire le idee sulle varie applicazioni dell'aerospace nella quotidianità di ognuno di noi anche per la costruzione di un futuro sicuramente migliore di un pianeta migliore grazie davvero e a presto grazie a voi buona giornata grazie a tutti